Ciao a tutti amici e benvenuti, io sono Franco Aversa e questa è DaVinci Resolve, facile per tutti. Siamo arrivati al tutorial numero 5 e in questo tutorial continueremo con gli effetti, l'inspector, alcuni shortcut e forse forse riusciremo a fare anche un titolo. Sto lavorando con le riprese che dà a disposizione la Blackmagic così se volete seguire queste previsioni con le stesse riprese potete scaricare dal link che vi fornirò in descrizione. Volevo precisare alcune cose sugli effetti così vediamo anche una cosa da l'inspector. Vi ricordate che abbiamo detto quando avviciniamo delle riprese dobbiamo fare attenzione che se non c'è materiale in testa e vi faccio anche notare, non l'ho mai detto, che se tengo premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare, vedete che si forma questo contorno qui, adesso lo rifaccio, ecco vedete il contorno bianco, dà la lunghezza del totale della nostra clip cioè io so che in questo momento la clip arriva fino a dove ho la playhead. Stessa cosa alla fine se clicco vedo è rosso ma se tiro io so perfettamente dove finisce la mia clip perché c'è quel rettangolo bianco ora ho messo una feccia per indicarvelo così andiamo a bene capire subito la lunghezza totale della nostra clip facendo così vado a sbattere ho il materiale massimo la stessa cosa qua vedete è rosso abbiamo detto che se facciamo così e cerchiamo di trascinare una risolvenza qualcosa in questo punto facciamo così vedete che proprio non prende non dice nulla perché non è possibile è in errore invece abbiamo visto come se andiamo a trimmare cioè andiamo a togliere un pochino di materiale li riuniamo e tiriamo giù la nostra risolvenza ecco qua che prende l'importante è avere materiale da entrambi i lati della disolvenza se vado allungarla vedete che a un certo punto non la posso più allungare perché quello è la lunghezza massima della mia clip sarebbe un po come se la portasse nella seconda traccia e facessi vedete che si vede adesso la lunghezza sua la portati qua e facessi una disolvenza così come abbiamo visto che si può fare ovviamente se io vado oltre con questa in questa zona vedrò nero e la stessa cosa che fa la disolvenza mi blocca a quando finisce la clip sotto in maniera che io non posso andare su nero vediamo cosa succede vedete si vede questa ma quando faccio così c'è un salto perché il materiale sotto finisce ecco pensatela sempre così questa sovrapposizione quindi adesso devo tirare qui ho quella sovrapposizione quando metto la mia disolvenza arriverà al massimo lì se volessi una disolvenza più lunga dovrei far rientrare ulteriormente il mio materiale ad esempio così so che potrò che stendere la disolvenza più lungo attenzione che stessa cosa su questa allora dovrei fare finisce all'edit e vedete qui ho il materiale di questa qui non so se mi sono spiegato ecco vedete che qua non va oltre perché è proprio la lunghezza di questa che si estende fino a qui e ve lo dimostro la trasciniamo e vedete eccolo qua sarebbe come io avessi fatto la disolvenza in questa maniera spero che questo concetto sia chiaro quindi non sbagliatevi ovviamente non posso fare una disolvenza all'inizio se la disolvenza deve partire prima quindi deve avere un pochino sempre di materiale un'altra cosa che può capitarvi e che non deve è di fare una un effetto una dissolvenza all'interno di una stessa clip non ha senso come adesso mettiamo un effetto qui vado a prendere un ovale che si apre e vediamo il nostro ovale che si va apre perfetto ma se io andasse a fare un taglio qui io adesso ho premuto slash prendo lo stesso ovale lo vale certo che viene però essendo che la ripresa è su se stessa vedete io non vedo assolutamente nulla in realtà lo vale c'è perché se io vado ad esempio scurire questa immagine io adesso faccio per farvelo vedere vado qui vado a scurire la mia immagine eccolo la mio vale si vede perfettamente avete capito che quindi non ha senso fare un effetto sul sulla stessa clip in mezzo se continua potrebbe avere senso farlo in un altro punto cioè se io vado accorciare così la clip e qua vedo vedo l'aereo più distante questo è l'aereo più vicino se vado ad esempio a fare una dissolvenza prendiamo una dissolvenza normale avrà un passaggio simpatico vedete che l'aereo distante aspettate che zero il controllo ecco vedete che vedrò l'aereo che sparisce alle volte si usa questo effetto anche più volte quando proprio un oggetto è lento ad esempio abbiamo una macchina che sta arrivando avanti ma è ripresa frontalmente quindi sta tanto a venire avanti vogliamo creare un effetto ecco caricato una ripresa di un'auto vedete è una ripresa molto lunga qui adesso c'è un movimento verticale della camera ma non importa può andarci bene in questo caso anche se è lo stesso soggetto possiamo usarlo tagliando vari pezzi riprendiamo proprio in parti diverse così poi un altro un altro eccetera adesso qua vicino un po più potremmo prenderlo qui e magari tagliare qui e di solito questa operazione si fa in tempi regolari ovviamente e adesso mettiamo una dissolvenza ovviamente le dissolvenze dovrebbero essere corte o comunque sufficienti da vedere il movimento così vi faccio vedere anche un po di effettistica vediamo cosa succede questa è la stessa clip ma vedete questo effetto e vedete la macchina che si avvicina con questo ecco questo è un effetto che si usa si usava bene le altre volte abbiamo visto che quando selezioniamo una clip entriamo nell'inspector abbiamo tutti dei parametri e delle possibilità per quella clip trasformazione cropping eccetera la stessa cosa non ve l'ho detto succede con le transizioni quindi clicchiamo qui ad esempio su quella dell'ovale eccola qua la vedete la vado a selezionare e come vedete anche questa cioè anche la transizione la dissolvenza le transizioni che vengono inserite qui hanno la loro parte di inspector funziona così la prima parte è uguale per tutti e è riferita proprio alla transizione infatti vedete che non è il pulsante non si può spegnere perché non si può spegnere una transizione e invece la seconda parte è proprio relativa al tipo di transizione che noi abbiamo inserito in questo caso lo vale andiamo a vedere cosa si può fare da questo pannello che innanzitutto possiamo impostare qui la durata che è molto più facile perché non merito possiamo sia farlo trascinando il mouse destra sinistra vedete che scorrono i secondi e i frame ovviamente la durata massima dipende sempre dalla sovrapposizione delle clip però qua è molto più facile regolarla oppure cliccando due volte dentro e impostando la nostra durata ad esempio 0.18 frame qui troviamo l'allineamento della transizione la transizione ha tre allineamenti l'avevamo anche visto centrale è così che prende in ugual modo la clip uscente e la clip entrante poi abbiamo che incomincia all'edit cioè l'edit è centrale quindi se facciamo così incomincia dal taglio e andrà dentro la nostra seconda clip cosa vuol dire che dobbiamo stare attenti avere molto più materiale qui invece questa potrebbe anche iniziare da qua proviamo a vederlo adesso vado a rimuovere un attimino io vado a fare così vedete che non c'è più materiale la unisco vado a riprendermi la l'ovale e vedete eccola qua la vado a selezionare vedete che dice incomincia all'edit in questa maniera sono riuscito a metterla anche se la clip qua non ha materiale prima perché non importa questa clip entrerà da incominciando da qua vediamola eccola qua seconda cosa che possiamo fare è dire centrarla come avevamo prima centrata vedete che adesso non lo accetta perché questa non ha materiale ecco qua centrata e l'ultima funzione è finisci all'edit e quindi è tutta spostata nella prima clip in questo caso possiamo avere questa che finisce anche all'edit qui e questa invece deve avere il nostro materiale sul davanti invece se passiamo alla parte che riguarda proprio la nostro tipo di transizione mettiamola al centro che andiamo meglio vediamo diverse cose troviamo un colore un colore che è inerente alla seconda funzione che è il bordo quindi se noi andiamo a trascinare qui o insieme un numero possiamo inserire un bordo alla nostra transizione e da qua appunto lo possiamo dobbiamo dare l'ok ecco qui il nostro bordo colorato questo si può anche rendere che firmabile e quindi possiamo anche partire con un bordo fino e poi allargarlo verso fine transizione o viceversa partire con un bordo grosso e poi andarlo a fare sottile seconda cosa che troviamo è un offset un offset sull'asse x y di cosa di questo cerchio perché questo cerchio invece di cominciare dal centro della nostra immagine può cominciare anche spostato quindi come vedete con questa x vado a decidere dove sarà il centro di partenza della mia transizione transizione che partendo da quel punto andrà comunque allargarsi a tutto schermo ma vedete restando centrato sul nuovo centro stessa cosa ovviamente si può fare in y però questo ci permette animandolo di creare un movimento del cerchio ad esempio facciamolo provare il cerchio deve aprire da qui mettiamo un keyframe in questo punto e poi qua così dobbiamo portarlo di nuovo dobbiamo portarlo di nuovo centrale vediamo cosa succede come vedete avete visto cosa fa la tendina mentre si apre va a centrarsi ok giocando bene con questi parametri otterremo cose simpatiche in questa tendina troviamo anche un aspetto aspetto ratio del nostro ovale quindi il nostro ovale può essere un cerchio oppure come vedete spostando questo aspetto possiamo renderlo appunto un ovale allungato in verticale sotto troviamo un feather il feather andrà a disattivare il nostro bordo purtroppo eccolo qua e il controllo del feather cioè della sfumatura sarà il bordo vedete parto da zero con un bordo netto e aumento per avere la massima dissolvenza e quindi la mia tendina eccola qua come sarà molto morbida un cerchio che si apre molto morbido sarebbe stato bello se avessimo potuto avere sia il bordo che la sfumatura ad esempio sul bordo però queste cose si possono creare anche in altra maniera e inoltre troviamo un altro parametro che è quello di come si muove qual è il movimento della transizione cioè no ha un movimento lineare e vedete la tendina si apre con movimento lineare con easy in a una partenza morbida come le cose che abbiamo anche già visto negli altri comandi out avrà un arrivo morbido easy in out avrà una partenza un arrivo morbido e poi abbiamo un cast che si può andare a definire e qua sotto troviamo una transizione della curva cos'è cosa serve se noi lo tiriamo vediamo che è l'apertura come se avessimo mixer video che possiamo a mano scegliere l'apertura della nostra tendina a cosa può servire può servire a programmare come si apre la tendina nel tempo normalmente il cerchio ad esempio in questo caso qua è a 0 qua sarà a 50 e qua sarà a 100 inserendo dei keyframe qui andiamo a attivare questo punto mettiamo 0 possiamo fare che sia subito a 50 qui quindi la portiamo subito a un'apertura larga poi possiamo portarci avanti e rimettere ad esempio lo stesso 50 e solo alla fine andiamo a allargare del tutto e vediamo vedete cosa ha fatto sono andata a programmare come andava ad aprirsi adesso ho fatto un po' un pasticcetto vado a recitare questa cosa qua si può fare in tutte le transizioni anche con la dissolvenza adesso provo con un'altra ad esempio la stella ecco qua la vado a sottolineare la vado a evidenziare e quindi ho i parametri vedete che la prima parte è sempre la transizione quindi avremo sempre durata centro eccetera vedete che qui abbiamo anche il tipo di transizione e quindi qua possiamo già scegliere che figura sarà ad esempio spiral e vedete che abbiamo una spirale e quindi avremo una spirale che si apre abbiamo split e via via possiamo scegliere direttamente qua la figura nella parte invece della tendina qua troviamo diversi altri parametri ad esempio la possibilità di scegliere le punte della stella la stessa cosa qua avremo il bordo il colore del bordo l'offset e come prima agli altri parametri adesso vi faccio vedere un'altra cosa ho selezionato un pentagono e adesso vado a personalizzarlo inserendo un bordo e vado a inserire ad esempio anche un colore mettiamo questo qui e io avrò bisogno sempre di questo tipo di tendina metto anche easy in out che mi piace ecco qua la mia transizione gli imposto anche una durata a me va bene così cosa posso fare posso cliccare sulla transizione e andare su crea e transition preset create transition preset cosa vuol dire che facendo così posso assegnare un nome a questa tendina ad esempio scrivo franco pentagono ok e questa tendina potrò riutilizzarla in futuro ad esempio vado a inserire un'altra ripresa qua dove trovo la mia transizione ovviamente su f library chiudiamo video pool sulla parte scendo giù risolvenze iris motion shape wipe fino a che non trovo user sotto user ho come vedete delle transizioni che io ho salvato ad esempio franco pentagono lo vado a trascinare e posso replicare la mia tendina questo ovviamente lo ritroverò in qualsiasi progetto cioè resterà sempre registrato in da vinci se questa transizione non mi serve più non farò altro che cliccare e cancellare delle transition preset posso metterla anche come transizione standard adesso clicco per farvi vedere mi viene questo pallino rosso e quindi cosa succede vedete ho la possibilità che se vado qui e premo quel famoso ctrl t o alt t che vi ho insegnato avrò la mia transizione al posto della dissolvenza non prendete paura anche questo si può cambiare basterà ritornare sulla dissolvenza cross dissolve e ripremere set a standard transition e in questa maniera ritorneremo con la dissolvenza di default ora passiamo un po alcuni shortcut che ci tornano utili in montaggio l'altra volta abbiamo visto come poter dall'inspector zoomare quindi fare piccoli pictures schermi che magari sono piccoli assieme con background eccetera adesso vediamo com'è possibile fare un frame perché purtroppo vedete non c'è un comando veloce che si clicca per fare un frame ad esempio voglio che l'aereo arrivi fino a un certo punto e poi si blocchi ecco entri scena e qua così si blocchi come facciamo la maniera più rapida è creare un taglio cioè con ctrl slash slash che vi ho insegnato a mettere fate un taglio con la seconda clip selezionata premette il tasto destro e andate su change clip speed questo vi serve anche per cambiare la velocità come vedete potete rallentare la vostra clip faccio una prova metto la clip al 50 per cento faccio cambia questo pezzo vedete che viene fuori questo orologio che sta a indicare che la velocità modificata se andiamo a vedere quando l'aereo entra vedete che rallenta sullo stesso pannello dallo stesso pannello quindi rientriamo su change speed abbiamo questo tasto freeze frame quindi lo clicchiamo facciamo change e a questo punto tutta questa aria è bloccata andiamo a vedere avremo l'aereo che entra e in quell'esatto punto si bloccherà cosa succede se dopo vogliamo farlo ripartire facciamo la stessa cosa ci mettiamo in punto tagliamo ci mettiamo sul successivo ripremiamo change speed e spuntiamo di nuovo freeze frame vuole dire che la clip ritorna alla velocità normale e qui abbiamo un passaggio secco vedete si blocca e poi si sblocca può servirci intanto per creare i frizz tenete presente una cosa se io sposto questa e a lungo il frizz il frizz sarà sempre bloccato non importa quanto dura la clip perché questo frizz potrò posso estenderlo per quanto voglio vedete la mia clip non durava tanto ma io facendo così posso ottenere il frizz fermo anche per ore oppure ovviamente il contrario ridurlo e agganciarci la parte che parte vediamo lo blocco un attimo e poi riparte ecco abbiamo imparato quindi anche in maniera veloce a fermare un'immagine o modificargli la velocità ma sul discorso velocità ci ritorneremo per chiudere questo tutorial vi faccio vedere due cose una nello spostamento nella timeline che è molto comodo cioè in da vinci oltre a muover su giù la playhead possiamo spostarci anche un altro modo vedete qua questo segnetto indica che la playhead è qua potremo semplicemente far scorrere questa barra grigia ma se noi ci partiamo qua e premiamo la rotellina del mouse il cursore diventa con un drag and drop si poteva trasformare in manina sarebbe stato più simpatico e possiamo trascinare come vedete la nostra timeline questo è comodissimo per quando abbiamo ad esempio più cose appunto in giro per la timeline vedete come mi è veloce premere la rotellina e fa scorrere la timeline piuttosto che spostarmi così perché magari la playhead mi serve in un punto devo solo controllare delle cose o portare delle cose dove è la playhead quindi posso fare questo gioco e andare a prendermi questa e spostarmela qui eccetera ecco questa è una cosa che non vi avevo detto e torna utilissima adesso per accontentarvi un attimino ma lo riprenderemo con il prossimo tutorial vi spiego come fare un titolo ci portiamo dove l'aereo si frizza allunghiamo un po' il frizz andiamo nell'effet library vediamo un attimo media pool vedete come ci muoviamo con le finestre chiudiamo apriamo apriamo chiudiamo la dimezziamo la facciamo lunga andiamo qua sui due box troviamo title clicchiamo e qui abbiamo questa parte qui l'avete tutti queste possibilità qua a noi serve o text normale o text con il segno più io vi consiglio a tex non segno più e lo vedremo la prossima volta perché trasciniamo in timeline ed ecco qua una scritta però abbiamo questa clip grigia che sarà la nostra clip del titolo trasciniamo quanto lungo vogliamo il titolo ad esempio io lo voglio soprattutto il frame e per scrivere dentro clicchiamo nell'inspector dove andremo a aprire il pannello dei titoli ma questo lo vedremo nel prossimo tutorial così sono sicuro che continuerete a seguirmi io vi ringrazio mi raccomando mettete un like a questo video iscrivetevi al canale se non siete iscritti e vi ringrazio per avervi seguito ciao alla prossima iscrivetevi al canale